Vorrei ringraziare Filippo Egren che anche per i suoi sforzi di parlare di grande successo, di parlare in italiano nel condurre questa sessione, inizia senza soluzioni di continuità la seconda sessione intitolata il futuro dei contenuti digitali tra diritto e tecnologia. I due interventi prima della pausa pranzo chiederò agli speaker di provare a limare 5 minuti dai 30 previsti così riusciamo a recuperare 10 dei 15 minuti di ritardo, nonostante siano entrambi temi strabilianti che potrebbero occupare ore e ore di discorso. In particolare vi introduciamo la prima presentazione, la presentazione di background, copia del 2.0. Lo speaker è il professor Marco Ricolfi, co-direttore del centro NEXA e professore all'Università di Torino, al Dipartimento di Scienze Giuridiche, che ha due discussants di eccezione, il professor Jean-Claude Guedon dell'Università di Montreal che ci ha già onorato di aver partecipato e contribuito in maniera decisiva all'Open Access Day del Politecnico di Torino di ieri. E l'avvocato Caterina Maracche, che viene da Berlino, grazie di essere venuta fin da Berlino, che conosciamo da anni, è stata fino di recente la direttrice di Creative Commons International. Allora, a questi speaker, in particolare al professor Ricolfi, chiediamo di elaborare una proposta che ha già un anno e mezzo di età, perché il professor Ricolfi a giugno del 2008, nel contesto del progetto europeo a Comunia, sul pubblico dominio digitale, che è un progetto europeo con 51 membri coordinato dal centro NEXA, aveva fatto una prima proposta, aveva fatto una prima proposta in cui proponeva qualcosa in realtà di radicale. Chi conosce il professor Ricolfi lo conosce come una persona estremamente equilibrata e attenta ai diversi aspetti di un problema, come è giusto che sia, ma aveva fatto una proposta profondamente innovativa, come appunto suggerisce anche il titolo Copyright 2.0. E oggi si era preso un impegno mesi fa di venire a raccontarci qual è l'idea, per ricordarla a chi non la conosce, e quali sono le sue idee e evoluzioni di questa idea originaria. Grazie. So I will speak in English. For a simple reason, I apologize for those who may have difficulties in following this. My discussants, I'm honored to have discussants, Professor Ghedon and Katerina Maracchi, and so it's fair enough that what they're supposed to be discussing is in a language which they do understand, otherwise it would be difficult for them. Last time I spoke in English in Torino, I received after an anonymous letter saying that I was an asshole. Maybe, but I think that this is something which the Nexa Center is trying to do at the same time. Yes, we proceed to investigate a number of issues, but the idea we have is that we are a part of a wider community, and that we should be working on the Italian side or part of issues which are being looked at globally. So maybe one of our tasks is to be able to switch from the Italian language to the English and vice versa at some point, which is something which in the bigger European Union states is more difficult than in smaller ones like the Netherlands or Norway, or Norway is not even about Denmark, for instance. In any event, time is what it is, and so the issue we're dealing here is copyright, and copyright, as you felt from what even Avocato Blangino was saying, everybody knows is in our area a difficulty, an obstacle, a problem. So the same applies to privacy. Privacy sometimes is something which is conflicting with net access, and we have to find ways to deal with this and to find a balancing. In copyright, I think that the Center has been thinking about this issue for a while now, and what I'm saying in some way is going to be complemented with what Avocato Czurchin is going to say later. Actually, I'm talking about the first part of the issue. The question which I'm posing here is, shouldn't we have a totally new copyright, at least in part? And I will say that, yes, we need a totally new copyright, but that this may coexist with the old one, and so Marco Czurchin is looking at the other issue about the old one. Shouldn't we smooth a little bit the edges? Isn't this old copyright, which is still existing, too tough? Can it be accommodated, can it be rounded off a little bit? So, why am I saying that the old copyright should be replaced by a new copyright? Well, for a number of reasons. One is simple. Copyright has been around for 300 years. So, I was in June in London to speak about the third centennial of the creation of copyright by the Good Queen Anne. This was back in 1709. And we suppose that it has become a little bit outdated and old. And in fact, this is a supposition which is based on a number of things which we took for granted because they have been around for a few centuries. And then we found, including the nation state, we found at some point that their continued validity was being eroded. And the same is happening with copyright. And why is copyright becoming old? Well, because the business model on which it was based is becoming marginal, smaller and smaller. Creators in the past did need businesses, intermediaries, to bring their works to the public. Think about people writing music. They needed an impresario. People writing books, they needed a publisher. At some point later, musicians needed somebody to print vinyl records and CDs. And this meant that to reach the public, the creator had to find a business which was willing to take the risk of manufacturing something which was a hard, stable copy most of the time, putting up an investment. There were very substantial distribution costs. And what is usually used as a metaphor is that it was a tripartite relationship between the creator and the public going through a business. Now, Hollywood is probably, movie is probably, the climax of all this, the richest point. If you don't have the business, you don't even have the work because at least in music, you have it and then it's incorporated in music sheets and the performance. But in the case of Hollywood, you may have the plot, you may have a number of things, but until you don't have the business, you don't even have the work. But what changes with the digital age? What changes in the digital age is that what I can describe, the long route from creators to the public through businesses and intermediaries is replaced by a short route, meaning that to create not only work but copies, you don't really need a business. You don't really, a creator does not really need a business because you know how it is with a text. Once you have the text which is in digital format, you don't need a printer to publish it. if you make it available to anybody through your website and the music, this process incorporates also the creation. You know, our kids are able to use software to put together what they do in a band, creating a musical file which is then edited and once the file is there, it can be made available without the need of any record company and the distribution is not necessary. You don't have, you know, all these books shipped around and to various towns and then going to bookshops. Distribution is taken care because this is digital, means an infinite number of perfect copies at no cost in terms of storage and no cost in terms of distribution. So what used to be the long route of the work from the creator to the public passing through the business and a number of intermediaries, remember also television, also radio, also collecting society made all this route so long, is no longer so necessary. Now, the last development is that actually we are not even talking about the route from creators to the public. There is an identification between the public and the creators. We are talking about user-generated content. And now my question, this is a question which actually I don't think that it has just been me to ask. I think that a number of proposals are coming, asking, well, for this kind of new people who are creating works, is it necessary to have the old copyright, the one which I call copyright 1.0, which is giving all these exclusive rights, all these very strong exclusive rights? Well, this depends on what kind of people are creating in the digital age. And I would say that as the route has become short from what it was, it was long, we tend to see many, many more people who are creating who are not professionals, who are not depending on the economic exploitation of works for a living. And still, they are creating what is the important contribution to our culture. I'm talking about, as an example, all the free music, which is available under Creative Commons licenses. We're talking about Wikipedia. We're talking about blogs, which are so important if compared to mainstream journalism. And is it indispensable to have the strong protection of old copyright, copyright 1.0, for these works which are done by amateurs rather than professionals, by many people cooperating rather than one single creator with the help of the business? Our idea is that, no, it is not necessary. Actually, it is counterproductive to stick to the old copyright because the incentives for these non-professionals who are creators and at the same time public are very different. They're not interested in having all rights reserved. and this is shown by the incredible success of Creative Commons. So our proposal, which is detailed and is available in the Copyright 2.0 speech I gave in Louvain, is that we should have two systems of copyright. The old one, as it was created 300 years ago, Copyright 1.0, and then we should have a second system of copyright which is tailored to the needs of the amateurs, not of the professionals, which doesn't give exclusive rights. It gives only attribution rights, meaning everybody is able to ask that he is credited the creation of the work, and that's it. that these two regimes should co-exist, but there should be a great change from the past to have the old copyright. It should be necessary for those creators who wish to have it to claim for it, to append a notice which was phased out by Byrne, and at the same time they should register in a global register, which again is possible. And the final point would be that this means that by default you have copyright 2.0, and if you want to have the old protection, you have to opt in for protection. And actually the idea is that you opt in for a limited period of time, like 14 years. I think that this, I have Katerina Maraki here on my right side, one way to describe this, this would mean that we would have creative common licenses by default as a rule, and if you want to have another kind of protection, you have to opt in. This is probably something which seems revolutionary, but if you think about what you did, yesterday, you created, most of you created, I would say all of you created something, writing down an email, or making a report, or putting up something on YouTube, or you have all been creating something which is protectable by copyright, and what kind of protection are you interested in? Are you interested in exploiting economically this? Well, if you did, probably you should have the possibility of saying, well, I did my symphony, I did my book, and I want to have people to pay for this, and so you would opt in. But probably you have given your little grain of contribution to collective creativity yesterday, and for this, you don't need copyright 1.0, the old one, the one which fits professional musicians, professional writers, Hollywood, and the like, but all what you need is the minor protection of copyright 2.0, and this is what, in my opinion, should be done, in our opinion, should be done. Of course, one has to change treaties, Bern would not be, would not accept this, trips would not accept it, and our position is, so what? When something, when something, when an old law, old law has become obsolete, the time has come not only to have courts to experiment on it, and local municipal legislature, legislator to try to change it, people do get together and change the rules, and probably the time has come. The internet is requiring also an adaptation of copyright. So this is our position, I think, that we have, what are we now, or 12 minutes for a few comments? We have, if we want to, to save, microphone, if you want to save, we want to save five minutes, we have seven minutes, which is a little cruel, but let's give the word to Katerina Maracke, who was mentioned in the last few minutes of Professor Ricoffi's talk. Well, thank you very much. First of all, I want to thank you, Juan Carlos and Professor Ricoffi, for inviting me and giving me the chance to participate. Of course, I'm very much in favor, naturally, for what Professor Ricoffi has just suggested, and it's actually not so far away from what Lessig is always claiming, that in the new digital age, the author probably needs to become a little bit more active if he wants this very strict copyright. So Lessig usually proposes something that, a very short period of copyright, and if that's timed out and you want to still have this default, very strict protection, you have to register and you have to maybe pay very, very few, I think he's talking about a cent or something, just to make sure that you actually go through some procedure to get your copyright registered and actually you can claim for it. So naturally, I'm very much in favor of this, and it also brings me to another point that I wanted to mention because right now I'm involved in a business consultancy. I'm working a little bit with the publishing house and helping them to implement Creative Commons licenses and think about a business model that could work with Creative Commons licenses and based on some kind of open access model and still allowing the publishing house to earn their money. I know I have a very little time, but it's actually very interesting to see the conversation in Germany going on right now. As you may know, they are thinking about adding an additional right in the current Copyright Act, a neighboring right for publishers, especially for press, because the press publishing houses, the newspapers, the magazine, they are claiming that with the new digital age, Google, Amazon, they have been taking away their traditional business. And instead of thinking about how they can rethink the whole system of copyright, they are just claiming to protect them. They are not thinking about what could be our new business model, what could be the advantages of the digital age. and this is kind of very frustrating, I think, and I'd like to quote Professor Ricofi, I think, in a speech a while ago, he quoted Goethe and said, well, that alte Gesetze and Rechte verpflanzen sich fort wie eine Narrheit. So that means that law... Es erben sich Gesetze und Rechte wie eine ewige Narrheit fort. Thank you. And that's so true. We are only thinking about, okay, how can we protect the current business model? and we are not thinking about... All the law are inherited from the past into the future as an everlasting madness. Thank you. So that's just my point or what I wanted to add. It's really a stupidity that we are not thinking about a new framework that could help everyone. and when we look at the traditional model that Professor Ricofi described earlier, what is publishing? What are the music industry? They are born to serve the author, the creator. And I think that's what we have to take into the discussion for the next copyright. Thank you. Professor Gidon, please. Well, thank you again. I don't know if it's working. Yeah. Yeah. Thank you again for inviting me for this session. Unlike my colleague, Ricofi, I think he should have spoken Italian because my commentary would be much easier to develop if I don't understand a thing because then I can say anything I want. So now, on the other hand, I have to, in a sense, respond to what he says. But luckily, my response will be essentially very positive, so there is no problem fundamentally. when it comes to copyright, my Bible is a book which probably most of you know. It's Mark Rose, Authors and Owners. I don't know if any of you have read this book. I recommend you do read this book if you haven't read it yet. And this book allows you immediately to understand, I think, two very important things in the emergence of copyright. when it is a product of print, but it's a very delayed product of print, 250 years more or less. And that in itself is a lesson for us. So if copyright is part of the print world and the print world is essentially fading out, we may expect copyright to somehow be pushed out gradually, but it may take 250 years. So let's keep that time scale in mind. The second thing is that in the battles that followed the statute of Queen Anne, what really emerged was really a really completely fascinating story that has nothing to do with copyright. It was the battle for the kings of England to try recovering absolute power in their country. And as they saw property as a limitation on their power, they tried to hit what they saw as the weakest link in the power in the property world. and literary property appeared to be the best place to attack. And the immense paradox of all this is that the partial victory of the king by the decision of the House of Lords in, I think, the 70s, 1770s, ended up giving us the framework which immediately was picked up by the Americans while saying bye-bye to the British and later on in a different vein with all the kind of romantic business and madness that the French practiced occasionally in this case in the revolution which was again picked up and it gave that kind of limited time property that began which was described yesterday morning as being originally 14 years. We should go back to that by the way. And I think Larry Lessig is very much of this opinion too if I remember his work at the Supreme Court. So what it means is that when we're talking right now about copyright we're talking about an issue which cannot avoid but mixing up entirely different sorts of things. Media changes on the one hand and business models changing as a result of that for one thing and also probably totally different sorts of issues which probably have to do and I'll connect back to what we were hearing before which have to do with power shifts where copyright is going to be tangled up with that and we have to think ultimately also in political terms. Well I don't have time to develop all that otherwise we'll be going on until five this afternoon. Not that I don't want to but I think others want to speak. So I'll come very quickly to very specific points. I essentially agree with your basic premises. I'm not sure I would use the strategy you used but I'm fully in agreement with the intention and the objective. It seems to me that there are a number of ways of getting at this issue and what it really means when you think of it on the long time period is that people are beginning to think about how to get rid of copyright essentially. We've got this impediment and our colleague here is doing his best in a very good way to try and getting rid of copyright as we have it. Creative Commons in a certain sense is sort of putting copyright on the side and say let's do that differently. I was saying last night to my colleagues to you in fact and to Philippe about the Brazilian scheme which is quite funny. They say okay we're caught with Bern but Bern only imposes a minimum amount of constraints on property. Let's go crazy. Let's do what happens when you know in mathematics you deal with the famous one over x curve and you start from minus infinity on the x curve and you end up on the minus infinity in the y curve and then suddenly boom you come back on the other side. So with this kind of you might say wormhole in space you can arrive through a going to infinity to the reverse position that that thing might indicate. The Brazilians say let's treat let's treat all of copyright as if it were moral rights which means then that you can never give it away. You're stuck with it. When you create something you own it forever for eternity. What does that mean? You can't give away your rights to a publisher to the third party and as a result you have to treat everything else by different laws which would be contractual laws and these are not underburn and then governments can legislate that very nicely and just say you know to burn. And what a lovely gesture. I love that gesture. And so that's one possibility. Less radical but I think very efficient and totally inspired. I'm not original at all there. in fact I have not been original at all this morning and keep on citing people but Larry Lessig has suggested that we should re-restore the compulsory registration you mentioned that copyright. I would add one more thing. Yes you register your copyright but you have to renew it every five or ten years. So if you disappear or you don't want to renew it it goes automatically into the public domain and that immediately would solve an awful lot of problems. In the rest of the paper of our colleague there were things about orphan works and issues like that. If you have this kind of situation with a register and it's sort of evaporating evaporating copyright if you don't insist on keeping it then the orphan work problem disappears and that would really simplify the whole question which is really a massive question which is how do we transfer our whole culture into the digital world. One last point and I think that would be that will conclude that. Again in Brazil again with this disintermediation of the third party one thing is beginning to appear very clearly. There's a bunch of kids who are doing music in Brazil by in a very different way. They're called Technobrega and I know that Juan Carlos knows about that group. Anybody who has been to Rio has heard about that if they are interested in creative comments because Ronaldo is there telling about all this in a very Brazilian way. And what do they do at Technobrega? Well something very simple. They give away their music recorded music so people know about them so the music advertises them and then they do real concerts and when you come out of the concert they immediately print out the concert itself so that you buy that recording because it's the memory of your own living experience. Well what are we doing there? I think we're recreating with modern means the prevalence of performance over diffusion of culture the way the troubadours were doing in the Middle Ages you know and again we're going back to a preprint world you know a manuscript world so maybe we should think about the Middle Ages to think about our future. Thank you. Thank you. So we have asked you some questions come we have answered in the moment we'll have the discussion of today's morning please you know ask them in the way we want to ask them ask them to we can do you know then this is the second present the last that is before the pause prance e idealmente connessa con la presentazione precedente, l'ha detto anche il professor Ricolfi, riguarda il file sharing e una specifica soluzione, tra le diverse possibili, una specifica soluzione alla questione del file sharing. Questa è una delle attività di ricerca del centro NEX, qualche mese fa abbiamo pubblicato uno short paper in cui proponevamo un'analisi delle licenze collettive estese, un'analisi prevalentemente giuridica sull'utilizzabilità delle licenze collettive estese per risolvere il problema del file sharing. Abbiamo qui l'autore principale di quello short paper che è Marco Ciurcina, fellow del centro NEX e abbiamo come discussant Filipe Gren che ritorna al podio in una veste diversa, Filipe Gren ha diversi interessi che sostiene a un livello altissimo tutti quanti, uno di questi è proprio relativamente alla questione del file sharing. Filipe Gren ha pubblicato qualche mese fa un libro, Internet de Creación, dove propone in maniera articolata una soluzione flat rate o flat culture relativamente alla cultura in Francia e quindi è più che titolato per interagire con Marco Ciurcina e ragionare sulla possibilità di risolvere la questione del file sharing con un approccio radicalmente differente a quello che si è affermato per esempio in Francia con la legge Adopi e che si discute anche in altri paesi. Prego, buongiorno a tutti, un attimo che vedrete le slides e quindi sarà più facile seguire il discorso, forse, aspettate perché già un'altra volta ho avuto problemi in questa aula. Devo cambiare collegamento? Sì, perché non ho collegato. Sì. Vabbè, ve lo racconto. Vabbè, ve lo racconto. Voglio una rastrali. Ecco, adesso è una rastrali. Il sistema operativo. Oh, bello. Prima era comparso per un secondo punto. Sì, ma è un altro po' più. Ah, ok, comunque un altro punto. Quindi proprio un attaccamento al suo portate. Sì. 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 Allora, io faccio due cose. Inizio. Allora, io inizio. Intanto copiamo sull'altro computer e quindi... E quindi... Ok, inizio. Ok. Alcuni dati. Internet oggi conta... Finito. Conta più di un miliardo e 600 milioni di persone. Di utenti. Siamo tanti. Secondo l'IFPI, in Internet, in Europa, il 16% degli utenti scambia regolarmente musica illegalmente, utilizzando sistemi peer-to-peer. Insomma, i dati sono importanti. Sono numeri che ci dimostrano che c'è un problema. Soprattutto se consideriamo che le reti peer-to-peer sono uno strumento di straordinaria efficienza. Utilizzando le reti peer-to-peer si può accedere a musica, video in maniera... in maniera rapida ed economica. Con beneficio per tutta la società. È fuori? No, di me, come è... La presentazione è... Scusatemi di nuovo. Allora, la presentazione è qua. Qualche quadro, sì. Scusatemi di nuovo. Grazie. Grazie. Scusatemi di nuovo. Grazie. Scusatemi di nuovo. Grazie. 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 Ok. Queste cose ve le ho già dette, le tecnologie peer-to-peer permettono, però c'è un problema, il problema è il diritto d'autore che oggi allo Stato funziona nella generalità degli Stati in un modo che vieta la condivisione di file attraverso le reti peer-to-peer a meno che non si abbia l'autorizzazione di tutti i titolari dei diritti. Questa situazione rende praticamente impossibile scambiare file con un effetto sostanziale che senza dubbio non costituisce un'equa contemperazione del principio della libertà di accesso alla cultura stabilito dall'articolo 27,1 della Costituzione con i diritti dell'autore previsti anch'essi dallo stesso articolo, però al comma 2. Perché ci troviamo in questa situazione? Qualcuno definisce questa situazione come una situazione del tipo dilemma del prigioniero, cioè i titolari dei diritti non sono in grado, non riescono a mettersi d'accordo tutti per metterci a disposizione una licenza, un'autorizzazione che ci consenta di scambiare musica su internet. Quindi c'è una situazione di fallimento del mercato che evidentemente non può funzionare sulle reti peer-to-peer perché la tecnica che consentirebbe di scambiare musica, video su internet sarebbe quella di ottenere una licenza globale che autorizza in generale a scambiare ma il mercato non ce la rende disponibile. Allora, visto che c'è un problema, non si riesce a remunerare i titolari dei diritti per gli scambi che avvengono attraverso reti peer-to-peer, si sono cercate negli anni passati delle soluzioni. La prima strategia è stata quella di sanzionare, suggerita da chi vi aveva interesse, di sanzionare con sanzioni criminali, quindi penali, i titolari, gli utenti che scambiano attraverso reti peer-to-peer. Questa strategia negli ultimi anni è stata abbandonata anche e soprattutto perché è estremamente costosa, non solo economicamente ma anche in termini sociali da implementare, ci sono strategie più raffinate che si sono così ideate in Francia, che chiamiamo la dottrina dei tre colpi, cioè primo l'email, poi una lettera alla comandata e poi il taglio dell'internet. Strategie che quindi hanno anche un... si spostano più sul piano amministrativo, prevedono l'istituzione di un'organizzazione, di un'agenzia governativa che gestisce lo schema e coinvolgono gli internet service provider in un'attività di controllo che incide pesantemente anche sui nostri diritti di privacy. E comunque resta il fatto che lo scambio di file attraverso reti peer-to-peer è vietato, con uno sbilanciamento dei valori di livello più alto, dei diritti fondamentali, e comunque questa tecnica non risolve il problema, il problema del fallimento del mercato. Quindi utilizzando quelle tecniche il peer-to-peer resterebbe fuori dallo spazio di tecniche che si possono utilizzare per scambiare file. Quali sono i termini della questione dal punto di vista giuridico? Per scambiare file si devono esercitare due delle facoltà che sono previste dal diritto d'autore. Il diritto d'autore non è unitario ma è un fascio di diritti, di questi diritti ce ne sono due, uno è quello di riproduzione, fare copia sul proprio computer, il secondo è il diritto di messa a disposizione del pubblico, cioè il diritto di far accedere altri ai contenuti che noi abbiamo sui nostri computer. Per cercare una possibile soluzione giuridica a questo problema, si deve cercare una tecnica che consenta sostanzialmente di remunerare i titolari dei diritti per lo scambio che avviene attraverso reti peer-to-peer. Le tecniche in astratto possibili sono quattro. La prima è tassazione generale, quindi lo Stato raccoglie dei soldi che vengono distribuiti ai titolari dei diritti per lo scambio che avviene attraverso internet. È quello che succede per esempio in Italia con le biblioteche. Lo Stato ha in bilancio una partita che remunera il nostro diritto di andare in biblioteca a prendere delle copie dei libri o dei video, della musica e utilizzarli. La seconda tecnica è una tassa di scopo. Per tassa di scopo, per esempio, si può intendere un sovrapprezzo che si aggiunge alla connessione internet da modulare in vari modi. E poi ci sono le tecniche di licenza, che a seconda di alcune caratteristiche della licenza possono essere obbligatorie, quindi obbligatorie per legge per tutti, oppure collettive estese, di cui vi dirò tra poco. Ci siamo posti una domanda in Nexa. La domanda è, può un Paese dell'Unione Europea, quindi uno Stato membro dell'Unione Europea, adottare norme che legalizzano il file sharing di opere protette utilizzando una o più di queste tecniche? La risposta che ci siamo dati è che, alla luce della direttiva 2001-29, c'è soprattutto, perlomeno tre di queste tecniche non possono funzionare. La tecnica della tassazione generale, tassa di scopo e licenza obbligatoria. Perché? Soprattutto perché non esiste modo di flessibilizzare il diritto di messa a disposizione del pubblico, di flessibilizzarlo nel senso di cambiarlo da diritto esclusivo a diritto di credito, quindi a diritto di remunerazione, alla luce proprio del dato testuale della direttiva. Però, forse, no, forse, siamo convinti che sia possibile utilizzare la tecnica della licenza collettiva estesa, per molti e vari motivi. In particolare, perché questa tecnica, va bene, è stata riconosciuta ed utilizzata, è stata riconosciuta come valida tecnica per gestire il problema degli Orphan Works. Quindi, il cos'è? Orphan Works. Non è Orphan Works, la licenza collettiva estesa non è definita. Adesso la vado a definire. L'I-Level Esper Group, il Copyright Subgroup della Commissione Europea, ed è la tecnica della licenza collettiva estesa espressamente prevista e consentita dalla direttiva 2001-29 CE. Quindi, questa tecnica può essere utilizzata per legalizzare il file sharing di opere protette dal diritto d'autore. E adesso vi dico come funziona. Allora, una società di gestione collettiva, le società di gestione collettiva, negoziano con associazioni che rappresentano gli utenti, un prezzo, un corrispettivo, che una volta fissato, diventa il prezzo della licenza che le società di gestione collettiva mettono a disposizione degli utenti e che quindi gli utenti, pagando questa licenza, acquistano il diritto, l'autorizzazione di scambiare musica attraverso le reti peer-to-peer legalmente. Il denaro raccolto dalla società di gestione collettiva viene quindi, in parte, ripartito tra i titolari dei diritti, autori ed altri titolari dei diritti, artisti, interpreti, esecutori, titolari dei diritti sui fonogrammi, eccetera, e in parte, ovviamente, viene trattenuto dalla società di gestione collettiva per remunerare il servizio che svolge. Alcuni caratteri che è importante ricordare di questa tecnica, abbiamo chiamato licenze collettive estese, estese sta per indicare un carattere di questa tecnica per il quale l'effetto della licenza si estende anche ai non iscritti alla società di gestione collettiva, un po' quello che succede da noi con i contratti collettivi di lavoro che si applicano anche a chi non è iscritto ai sindacati. Per esempio, resta uno schema volontario, quindi è uno schema nel quale gli utenti scelgono di acquistare, di pagare il prezzo della licenza, se vogliono fare peer-to-peer legalmente, e è volontario anche per i titolari dei diritti, che comunque restano nella facoltà di fare opt-out, di scegliere di non far circolare liberamente le loro opere sulle reti. E questo è quello che si può fare, per esempio in Italia, ma a livello europeo, se si intervenisse sulla direttiva... Tre parti, senza aspettare per tutto di stare finito, pubblichiamo la versione inglese su internet, e dopo, quando tutto è pronto, cerchiamo per un publisher. Grazie, abbiamo due minuti, se mi passate la domanda per favore, così abbiamo, magari in questi due minuti in maniera assolutamente concisa, abbiamo una prima domanda di Camilla Sebastiani dell'Agicom, come possono essere inserite le licenze collettive estese in Italia? Basta un accordo sia ai associazioni e ai consumatori, cioè con una sorta di autoregumentazione del mercato, o serve un intervento legislativo o regolamentare? No, serve un intervento legislativo perché, tanto per fare un esempio, l'effetto esteso non si può ottenere senza una norma che lo prevede. Peraltro una proposta di legge in questo senso è già filed al Parlamento italiano, da un paio d'anni, a firma dei deputati radicali Beltrandi, primo fermatario. Nella precedente legislatura, prima che terminasse la sua esistenza anticipatamente, era già prevista una discussione in Commissione Cultura, in questa legislatura giace ferma dall'inizio della legislatura. Grazie, una seconda osservazione è radicale di Carlo Blengino. La licenza non impedirebbe, anzi giustificherebbe, attività di enforcement per verificare se chi scambia ha pagato? Chi non paga viola e allora lo persegue ancora più lecitamente e dunque non si modifica l'utilizzo del copyright come motivo di controllo della rete, anzi sottrae argomenti difensivi ed etici allo scambio. Allora, qui finora vi ho parlato come avvocato, l'avvocato ha un problema e cerca di risolverlo. Il problema era come fare per legalizzare in Italia, quindi rispettando le norme internazionali e la direttiva europea, come fare per legalizzare il file sharing. La tecnica è questa, non ce ne sono altre. Se guardiamo invece in termini, come dire, politici, non so come chiamano, di obiettivi di lungo termine, francamente io soluzioni, cioè idee definite non ne ho, perché so che c'è per esempio la posizione del partito pirata che dice che il diritto d'autore deve stare fuori dalla camera da letto e quindi il file sharing dovrebbe semplicemente essere libero e gratuito, ma so anche che questa posizione, almeno nella mia idea, richiederebbe una modifica del trattato di Berna che forse andrebbe insieme all'idea di Marco Ricolfi del copyright 2.0, quindi tempi un po' lunghi. E quindi sì, so che prevedere un meccanismo che liberalizza il file sharing a fronte di un pagamento potrebbe, non interferisce con l'enforcement più duro nei riguardi di chi non paga, diciamo, ma certo è che più si punisce e più la gente paga e quindi non lo so, non ho idee precise su questo. Abbiamo ancora tempo per discutere oggi pomeriggio, c'è la professoressa Mariella Berra che è del Dipartimento di Sociologia dell'Università di Torino che non può essere con noi oggi pomeriggio, voleva dirci qualcosa di interesse generale. Dico bene, Mariella? Posso? Prego. Hai una... Mi seguo. Buongiorno. Io, proprio a proposito di contenuti, beh, ho già fatto così perché... Proprio a proposito di libertà e di contenuti di diritto all'accesso volevo riferirmi alle conseguenze anche pratiche di un progetto di ricerca in corso che abbiamo avuto sulla diffusione della cultura umanistica e scientifica e parte di questo progetto e anche l'educazione alla condivisione perché oltre tutte le cose per imparare, a cooperare, accettare il copyright cinque anni, accettare quella forma, bisogna... o scegliere Creative Commons, bisogna imparare a cooperare. Allora, in questa... abbiamo un sistema universitario aperto costruito dai bibliotecari abbastanza in modo sconosciuto che utilizzando un progetto cioè raccolgono e costituiscono un archivio aperto per l'Università di Torino che è molto utile per tesisti, per altri, dico in modo sconosciuto perché per esempio i miei studenti non lo conoscevano, no? E molti altri non lo conoscevano. Allora, cosa abbiamo fatto noi e questo... abbiamo costituito la comunità del Dipartimento di Scienze Sociali per poter accedere a aperto e attraverso questa comunità pubblicheremo i quaderni del Dipartimento, i net paper, che sono qualche cosa di più lungo, sotto Creative Commons e anche l'opera prima dei ricercatori la pubblicheremo sotto Creative Commons. Qual è la cosa importante? Che è il Dipartimento e non l'editore che è diventato proprietario dei diritti e ha fatto una gara quindi abbiamo due casi editrici che hanno vinto la gara una a Racne e quindi paga il servizio, il Dipartimento a questa casa editrice paga il servizio di organizzazione e per l'opera prima abbiamo anche la Carocci che è una casa più universitaria e qual è l'importanza di questo? Si è parlato di reputazione di reputazione che ormai è noto dagli economisti ma anche prima la reputazione è una moneta di scambio, no? e per i ricercatori è molto importante che cosa? La peer review e anche l'ISBN cioè avere e quindi noi questo lavoro di pubblicazione avviene dopo un giudizio peer review e viene attribuito per tutto un processo ISBN. questa è la mia comunicazione volevo anche chiedere dato che ci sono in corso molte altre iniziative come Open University Press eccetera eccetera sarebbe molto utile che chi le ha mi scrivesse e mi indicasse che cosa hanno fatto perché anche questa iniziativa si sta muovendo nell'ambito della mia facoltà e dal Dipartimento di Scienze Sociali e ci piacerebbe farla a noi del Dipartimento di Scienze Sociali sotto Creative Commons facendo anche gare regolari con gli editori e non con gli amici degli amici e come dicevo un grande sociologo che forse voi non conoscete perché siete giovani di due secoli fa che era Gabrielle Tard questa proposta mi farebbe piacere perché come sapete le grandi società sono società di evoluzione e di innovazione ma sono anche società di imitazione e quindi ci aiuterebbe molto grazie grazie molte allora finiamo qua per la mattinata al piano di sotto siamo lieti di offrirvi un leggero lancio